Ci troviamo al secondo tempo, calcio di punizione a nostro favore, sul pallone c'è il nostro numero 10 Michele Daniello, ancora 0-0, è una gara secca, se si va ai pareggi si va direttamente ai calci di rigore. Michele si accinge col suo sinistro, per poco, per poco, per poco, grandissima occasione per la Virtus Castelfrentano.